Un triste primato ha ottenuto l'operazione ARAS 21 portata avanti dal nucleo di polizia economico-finanziaria d'Imperia con la quale sono state arrestate 26 persone per reati legati al mondo degli stupefacenti e durante la quale è emersa per la prima volta in Liguria la diretta partecipazione di persone minorenni in fenomeni criminali associativi di tale caratura. Infatti due dei fermati all'epoca dei fatti accertati erano minorenni. Per questo il relativo procedimento è stato trattato dalla procura di Genova che ha richiesto due ordinanze di custodia cautelare in carcere per due indagati poi emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Genova. Delle 26 persone arrestate, uno è di nazionalità cubana, due è di nazionalità ecuadoriana, quattro è di nazionalità albanese, mentre gli altri sono accusati di essere componenti di un'associazione per delinquere diretta da esponenti della famiglia De Marte e Gioffre, originaria di seminari e collegate alle articolazioni di Indrancheta residenti in Calabria. Ma da anni radicatesi nella zona di Diano Marina, operativa nella provincia di Imperia, sin dal 2020 e finalizzata all'acquisto di coltivazione, trasporto, rivendita e cessione di cocaina, hashish e marijuana, che spesso arrivava in Ligure grazie a diretti approvvigionamenti dalla piana di Gioia Tauro, avvalendosi di canali privilegiati contigui all'Andrangheta. Agli indagati vengono contestati 56 episodi di acquisto, cessione e trasporto di quantitativi di cocaina e marijuana, nonché di coltivazione di marijuana, oltre a reati consumati e i danni di alcuni acquerenti, per costringerli a ripianare i debiti accumulati e mai saldati, attraverso lesioni personali, il furto di auto e altri mezzi di trasporto, estorsioni e minacce con una pistola, che durante le perquisizioni è stata ritrovata e sequestrata. Nei confronti di 18 indagati è anche stato disposto il sequestro preventivo per equivalenti di 866.400 euro, composto da 128 rapporti bancari, 18 autoveicoli, 12 motocicli, 6 immobili e 39 terreni, ubicati a Tiano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cassano delle Murge, Trapani, Marsala e Misiliscemi.